E' tutto qui. Siete pazzi? Sapete a chi state rubando quei soldi? Non li stiamo rubando. Siete pazzi? Siamo passati da missione impossibile a missione impensabile. Il piano non cambia. Se vuoi sopravvivere, non pensare da poliziotto. Sei nel mio mondo adesso. Facciamo un ultimo lavoro e poi spariremo per sempre. E' l'escrivito. E' l'escrivito. E' l'escrivito. Grazie a tutti.